Amici di Oggi Sport Notizie, buonasera, qui davanti a me c'è lo sede olimpico, qui è Mitra De Blastis inviato della redazione insieme a Davide Parravano che deve ancora arrivare, il sede olimpico stasera sarà teatro di Italia-Belgio, terza giornata di Nations League, una partita molto molto importante soprattutto per trovare continuità nei risultati che gli azzurri hanno trovato, hanno iniziato a trovare il mese scorso soprattutto grazie alla grande vittoria in Francia al Parco dei Principi contro gli uomini di Didier Deschamps, solita formazione per Luciano Spalletti questa sera, non ci sono dubbi, 3-5-2 capitando una Roma in porta, difesa 3 confermata con Di Lorenzo Bastoni e Calafiori, 3-5-2 quindi sugli esterni a centro campo troveremo Calafiori e Di Marco in mezzo al campo, regia affidata a Samone Ricci del Torino, ai suoi fianchi agiranno fra tesi e tonali, coppia d'attacco formata da Pellegrini e Reteghi, informissima con la sua Atalanta e dovrà dimostrare di diventare grande anche con la Nazionale. Mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social per rimanere aggiornati sulla partita e a più tardi!